L'utilizzo di metodi scientifici per la previsione e il controllo del comportamento possano migliorare la sanità pubblica e la sanità privata. È poco conosciuto il fatto che oggi, per esempio in ospedale, puoi entrare sano e uscire malato. Si chiama infezione crociata, quando ad esempio un batterio si infiltra laddove non dovrebbe. Ora, la maggior parte di questi casi non accadono per carenze di tipo strutturale o perché non è stato fornito al chirurgo abbastanza disinfettante. Accadono per comportamenti inadeguati del chirurgo, dell'anestesista, della caposala. Il comportamento più semplice, lavarsi le mani per esempio, in realtà è un comportamento complesso. Vuol dire strofinare 15 secondi e non 5, vuol dire bagnare le mani prima di mettere sapone e non dopo. Vuol dire chiudere i rubinetti utilizzando un fazzolettino, il gomito e non utilizzando i polpastrelli. Questi comportamenti possono essere previsti e controllati. All'ospedale Galeazzi di Milano, per esempio, è stata fatta recentemente una splendida ricerca dell'INAIL, con il supporto anche del Ministero della Salute, e si è riscontrato come, adottando metodi scientifici per il controllo dei comportamenti inerenti al rischio clinico, si possa ridurre fino a 13-14 volte il tasso di comportamenti problematici. E si può ragionevolmente ipotizzare che si riducano di altre tante volte le infezioni.